Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale. In FIPD ricordiamo che dal 14 dicembre il tratto interessato dai cantieri tra Ginestra e Monterupo tornerà transitabile su quattro corsie. Il cantiere chiude quindi con un mese e mezzo di anticipo rispetto al cronoprogramma già ridotto rispetto ai tempi previsti. A inizio lavori tutti i dettagli sui nostri canali social. La cantieristica sulla SR429 di Valdelsa, senso unico alternato per cantieri lungo la galleria Marcignana, lungo la galleria Fogneto 1 e la galleria Fogneto 2. Ci troviamo nei comuni di Certaldo, Gambassi e San Gimignano. Il provvedimento è in vigore da domani 12 dicembre fino al 17 dicembre in orario 8.30-17.30. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie! 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 Grazie!